Marketing generale interesse, ragazzi. Verso che cosa? Il nostro sistema di lavoro. In che modo? Sempre là. Dennis, in che modo? Contenuti. Fondamentale. Voi, ancora una volta, prendete la mia esperienza come caso studio, oltre che umano. Tutto quello che ho fatto, l'ho fatto con i contenuti. Se volete capire che cosa può funzionare e che cosa non può funzionare, avete già la risposta qua. A settembre erano 70 persone, arrivate per i contenuti, senza aver speso un euro per portarli tra Roma e Bologna. Quindi, che devo fare? Questo. Mettermi a lavorare su questo. Daniele, quando parli oggi pomeriggio, perché? Sicuramente è un buon posizionamento, sicuramente è una storia, sicuramente è un sacco di cose. Molte di queste cose le avete anche voi, ma da quando hai iniziato a vedere la differenza, da quando hai iniziato a creare contenuti. La cartucciera, i 15, 12, 10, 9 moduli, lettere pronte, tutto quello che serve, perché quando viene un cliente interessato a una cosa, io non devo fare altro che sotto la schiavania la prendo e gliela do al cliente. Però devo averlo già pronto. È impensabile di farlo al momento. Articoli, report, post, video. Provate a fare anche quello. I video sono una cosa che comunque vengono apprezzate davvero tantissimo. Ma perché? Perché è come se quando le persone ci vedono in un video, ci ascoltano, sentono la nostra voce, quando ci incontrano è come se già ci conoscessero. Quindi io non riesco a fare, lo dicevo anche l'altra volta, in un webinar, io non riesco a fare articoli, contenuti perché sono in difficoltà, perché? Ok, faccio video. Prendo una persona, Giuseppe, una persona come Giuseppe, ci vediamo una giornata e registro 8 ore di video. E poi man mano li riutilizzo. Di che parlo? Di quelle che sono le cose che vogliono sentirsi dire i miei clienti. Tutto questo può essere fatto essenzialmente con due obiettivi, ragazzi. Il primo è quello di fare in modo di acquisire, ma può essere anche utilizzato per andare a consolidare. Lo vedremo anche oggi. Io posso fare tante cose, le posso pubblicare, le posso anche tenere sotto la schivania. Se in showroom vengono 10 persone al giorno, perché mi devo complicare la vita? Allora, chiaro, che bisogna anche poi capire quello che è il tasso di conversione. Cioè, se di queste 10 già mi convertono 10, allora o sto bene così, oppure inizio a crescere. Quindi inizio a pensare nuovi modi per portarne 20. Se di quelle 10 ne porto a casa 4, magari qualcuno lo posso guadagnare se gli creo dei contenuti. Fondamentale, se il cugino non lo puoi sconvincere, quando vale che ce lo facciamo amico. E il cugino perché viene ascoltato? Perché viene creduto? Perché non vuol vendere. E me l'ha detto il mio cugino. Perché lui legge, si informa, si documenta. Ok, allora vieni qua. Leggiti queste cose. Fare marketing è anche questo. Ho visto su internet, sul blog di quello che dice quella cosa là. Il cugino è questo.